Calcio d'angolo per la Juventus, siamo al 91esimo, 25 secondi, uno schifo totale, una vergogna, una schifezza totale, una schifezza totale, batte fagioli, palle in mezzo, attenzione! Locatelli, spizzo, portiere a vuoto, mamma mia che schifo, che vergogna, che schifo, che schifo, sto cominciando a rompermi i coglioni io! Cambiaso, la dà Ildiz, 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 putta l'uomo, la dà quella a Cambiaso che mette in mezzo, ribatte la difesa del Parma, il Parma, grande partita del Parma, complimenti al Parma, intanto cominciamo, cominciamo, perché stasera vi massacro tutti stasera! Guarda Locatelli, guarda, tu Locatelli, mamma mia, mamma mia, mamma mia, 92esimo, 92esimo e 15 secondi, che schifo ragazzi, che non si può, non si può, palla in mezzo, Vlaovic, che non sta più un pallone! Ma Vlaovic, tu sei una pippa, sei, sei una pippa, sei una pippa, non è possibile, non è possibile che un giocatore da 12 milioni all'anno non prende una palla, non stoppa una palla, non fa una sponda giusta, non ne fa una dritta, non ne fa una dritta! Una vergogna, una vergogna, in casa con il Parma, con una neopromossa, che vergogna! Cambiaso, crossa in mezzo, calcio d'angolo per la Juventus, 93esimo! Che vergogna, che vergogna, che vergogna, che vergogna, che vergogna, che vergogna, che vergogna! che vergogna calcio d'angolo calcio d'angolo l'arbitro sta parlando un minuto due minuti tre dieci cinque da non rompere il calcio del prato abbiamo preso gol da del prato calcio d'angolo battuto attenzione calcio d'angolo dall'altra parte mamma mia mamma mia lo so che sono muto lo so che sono muto adesso non sono più muto Ildiz dalla bandierina batte Ildiz niente da fare arriva Consensaro che ci prova da fuori aria la recupera Copmainers che la dà indietro per Cambiaso Cambiaso ancora per Copmainers Copmainers butta la palla in mezzo ma Suzuki esce gli spugge la palla Ildiz salva sulla linea del prato attenzione Ildiz è in terra che non so che sta facendo se si è fatto male ha pianto non si capisce però cade male non lo tocca nessuno cade male mamma mia mamma mia Suzuki ci stava facendo il regalo e noi neanche ne abbiamo approfittato ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai finita finita arrivo ragazzi che vergogno io 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 adesso voglio sapere come cazzo si fa a pareggiare con una neopromossa in casa 2 a 2 hai già pareggiato col Cagliari pareggia anche col Parma e devo dire che se sta il pareggio stretto a qualcuno è proprio il Parma ma che ma che ma che è sto schifo ma che è sto schifo ma te motta mi devi spiegarne cosa quando è che comincerai a mettere una formazione e terrai quella per due e tre partite consecutive quando è che cominci me lo spieghi ma Danilo perché gioca ancora a calcio perché gioca ancora a calcio Danilo qualcuno mi spieghi prendi un ragazzo della next gen è meglio di Danilo Danilo è ancora in campo a fare danni anche stasera ha fatto danni su danni su danni Gatti è tornato quello dell'anno scorso ma che è è già finito l'entusiasmo ma cos'è Vlauvić tu ti devi vergognare tu ti devi vergognare Vlauvić te lo faccio fare io la papra vai a fare in culo 12 milioni all'anno sei un pippone sei ti ho difeso fino all'estremo ti ho difeso ti ho difeso fino all'estremo non fai una sponda giusta non fai un passaggio giusto giusto non stoppi una palla non ti mangi gol a porta vuota ma hai rotto il cazzo hai rotto i coglioni ma non è possibile un centrocampo che anche McKennie hai fatto solo il gol hai fatto tanti di quegli errori individuali da far paura cambiaso scoppiato Cabal anche lui male stasera Locatelli malissimo ma di Turam non ne parliamo neanche avevano detto no ma Turam e il Turam buono è quello del dove cazzo giocavi nel Nizza e Kefram non è quello dell'It ma chi è che ha detto sta strozzata ma chi è che l'ha detta ma basta basta poi entra Koppmeiners entra Hildiz morta mi devi spiegare ma che cazzo lì tiene a fare i guardaline uno sulla fascia destra sulla riga sulla riga della rimessa laterale destra e uno sulla riga della rimessa laterale sinistra ma li vuoi far giocare più in mezzo i due più tecnici che hai ma non è possibile continuare in questo modo non è possibile è vergognoso tutto ciò non puoi partire con un centrocampo McKennie Locatelli e Turam non c'hai qualità zero qualità lì in mezzo ma io non ci posso credere io non ci posso credere è una cosa veramente vergognosa vi dovete vergognare ma porca puttana Eva ma io quando ma io ma io non ma io non chi salvo stasera chi devo salvare Consensuo l'unico che ha provato a fare qualcosa l'unico poi chi è chi è che devo salvare non posso salvare nessuno anche UEA non bene anche se ha fatto il gol ma io non guardo guardo la prestazione e se tu hai fatto una prestazione come McKennie che fa schifo McKennie ha fatto più schifo di UEA se è per quello ma non è possibile giocare in questo modo non capisco perché noi non riusciamo a fare una forma due partite consecutive con la stessa formazione e Motta non è che tu devi inventare sempre l'acqua calda perché hai rotto anche un po' i coglioni io non ci posso credere veramente sono incazzato nero sono sono incazzato nero il Palma meritava di vincere le cose bisogna dirle perché dobbiamo ringraziare alla fine di Gregorio che anche lui non mi piace però almeno ha salvato quel gol lì su Camarà adesso non mi ricordo chi era ma dai basta basta dai basta mi raccomando Motta adesso domenica prossima cambia un'altra formazione cambiali tutti cambiali tutti ma che cazzo ma li vuoi far amalgamare a questi che calcio mercato è stato Copmaners vabbè è rientrato dall'infortunio e Nico Gonzalez un malato cronico che si sapeva da due anni che questo è sempre infortunato e Cabal che insomma bene o male è andato Turam che fa cagare Douglas Lewis non si sa che cazzo l'avete preso a fare ma vergognatevi andatevi un affanculo l'avete preso a fare Grazie a tutti.